ciao a tutti amici e amiche di biosport benessere bentornati sulla rubrica di anastasia continuiamo a parlare dei più dannosi consigli di bellezza e quindi di benessere che si possono trovare nel web volevo parlarvi oggi di un altro consiglio che ho trovato in giro ed è quello di utilizzare il pennarello indelebile sì avete capito benissimo come eyeliner è una cosa assurda ci fu taylor swift nel 2010 che aveva detto di aver usato come eyeliner nei bagni di un aereo un pennarello indelebile perché non aveva portato di mano un eyeliner per truccarsi da lì spopolò questa moda e quindi le ragazze iniziarono ad utilizzare questo pennarello qualora non avevano a disposizione l'eyeliner ma è pericolosissimo perché andare a mettere un pennarello indelebile vicino agli occhi che è una zona molto delicata e andate a mettere ingredienti tossici perché il pennarello indelebile si sa che è tossico può causare irritazioni allergie e è talmente pericoloso che rischiate anche di poter arrivare alla cecità quindi io consiglierei di evitare i pennarelli indelebili se non avete a portato di mano un eyeliner state senza trucco ma non usate i pennarelli e un'altra un'altra diciamo chicca che voglio dirvi riguarda che ho trovato in giro la maschera purificante fatta con la lettiera del gatto questa cosa mi ha fatto sorridere perché ho detto veramente la gente cade veramente in basso e era stata diciamo in voga tirata fuori sempre nel 2009 da una youtuber e poi c'era anche una trasmissione che si chiamava malati del risparmio dove c'era questo estetista che usava per le fan che hanno seguito la trasmissione quindi questa cosa già si sa ma per chi non l'avesse seguita usava questa lettiera dei gatti per fare le maschere viso ai clienti e quindi c'era l'uso siccome questa lettiera era fatta da un tipo di argilla la bentonite una cosa del genere allora andava utilizzare questa maschera purificante ma io ve lo proprio sconsiglio alla grande perché sostiene contiene delle sostanze chimiche come silicato di alluminio che ci si fanno i vetri e sono sostanze tossiche fanno male quindi andate a mettervi sulla pelle delle sostanze super dannose lasciamo queste cose alle youtuber pazze e alle trasmissioni diciamo indicibili come malati di risparmio che hanno fatto vedere dei trucchi del genere e io vi consiglio meglio una maschera all'argilla vera fatta più di rado piuttosto che andare a risparmiare con la lettiera di un gatto un saluto a tutti ciao alla prossima da biosport benessere grazie